Atti capitolo 3 Adesso leggeremo dei versi dal verso 3 al verso 6 Se avete trovato il riferimento dite Amen La Prove di Dio ci dice Costui avendo visto Pietro e Giovanni Che stavano per entrare nel Tempio Chiese loro l'elemosina Allora Pietro con Giovanni fissando gli occhi su di lui disse Guarda noi Ed egli li guardava attentamente Sperando di ricevere qualcosa da loro Ma Pietro disse loro Disse io non ho né argendo né oro Ma quello che ho te lo do Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno Alzati e cammina Amen Signore vi benedica potete stare comodi Qualche tempo fa ho letto una testimonianza Di un giovane Di un giovanissimo Un ragazzo di 15 anni Un cristiano Questa testimonianza diceva Mentre un giorno lui si trovava sull'autobus Sentiva dentro di sé Il desiderio di cominciare ad evangelizzare Proprio lì sull'autobus Si alzò in piedi Cominciò a parlare con le persone E disse Rabbe Tedivi Gesù sta per ritornare E qualcuno magari lo ascoltava Qualcuno meno Ci fu uno che disse Stai zitto Non ci disturbare Siediti Lui si sedette Ma dentro di sé Sentiva quel desiderio Sentiva quella forte pressione Da parte di Dio Di evangelizzare lì dove era Si alzò di nuovo in piedi E disse Rabbe Tedivi Gesù sta per ritornare E quell'uomo Che aveva un bambino in braccio Si alzò e disse Ti abbiamo detto di stare zitto Siediti Non ci disturbare E lui si sedette Ci fu una terza volta E ancora una volta Lui si alzò in piedi Per dire Rabbe Tedivi Gesù sta per ritornare E quell'uomo si alzò in piedi Come per volerlo quasi attaccare E con il suo bambino in braccio Andò verso quel ragazzo Quel quindicenne E a un certo punto Il suo bambino disse Papà Papà Non fargli niente Non fargli del male Dio ci ama E quell'uomo si fermò Proprio là davanti a quel ragazzo E cominciò a piangere E quel giovane non sapeva Il motivo per cui stesse piangendo E disse quel giovane Perché stai piangendo? E quell'uomo rispose Fino a questo momento Mio figlio non aveva mai parlato Amen Ma oggi Ha parlato per la prima volta Sapete perché? Perché questo è quello che succede Quando il sentimento di Dio Quando il tocco di Dio Entra nella vita delle persone Amen C'è qualcosa di speciale Quando è Dio Ad intervenire Nella vita delle persone Amen Alleluia E pensando un po' a questo Ho detto Com'è bello Che Dio si usa Anche dei più giovani Si usa degli anziani Si usa dei più grandi Ma si usa anche dei giovani Sapete? Perché quello che conta Veramente È avere il sentimento di Dio Nel nostro cuore È far sì che il nostro sentimento Sia in armonia Con il sentimento di Dio Amen Alleluia Noi abbiamo qualcosa Nella nostra vita Che vale più di ogni altra cosa Su questa terra Amen E non siamo qua Soltanto perché Solo perché Dio Ci ha messo qui Così Tanto per passare del tempo Ma siamo qui perché Dobbiamo dare Quello che abbiamo Amen Quello che Dio Ci ha dato gratuitamente Dobbiamo offrirlo gratuitamente Amen Penso sempre questo Sarebbe una tragedia Pensare che Dio Si è fatto uomo È venuto sulla terra Ha sacrificato la sua vita Solo per chi? Per i presenti Sarebbe una tragedia Pensare questo Ma quello che noi abbiamo È qualcosa di così speciale E siamo qui perché Dobbiamo darlo Amen Alleluia E pensando un po' A questo giovane Mi sono venute alla mente Le parole del fratello Treadway Quando è stato qui Negli ultimi servizi E nell'ultimo sermone Che ha predicato Ha detto Possiamo esagerare Nel parlare Di determinate cose Nella vita Possiamo esagerare Nel parlare di politica Possiamo esagerare Nel parlare di sport Possiamo esagerare Di parlare di motori Ma sapete Non dovremmo mai Aver paura Di esagerare Di parlare di Gesù Perché quando noi esageriamo Di parlare di Gesù Ci sarà sempre qualcuno Che riceverà Un beneficio Ci sarà sempre qualcuno Che riceverà Un tocco speciale Ci sarà sempre qualcuno Che riceverà Un tocco di guarigione Da parte di Dio Amen E penso che Se non fosse stato Per la determinazione Che quel giovane Ha avuto Quell'uomo Non avrebbe mai Potuto sperimentare La potenza Che c'è nel nome Di Gesù Amen Se non fosse stato Per quella determinazione Che quel giovane Ha avuto Nell'esternare Quel sentimento Che sentiva Quell'uomo Non avrebbe mai Potuto sperimentare L'amore di Dio Nella sua vita Amen Alleluia 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 Quello che fa La differenza In tutto questo È avere Il sentimento Di Dio Nel nostro cuore Amen Alleluia Ed è proprio questo Il titolo Che ho voluto dare A questo mio pensiero Il sentimento Del padre Il sentimento Del padre Quel giovane Ha avuto Il sentimento Del padre Lo stesso sentimento Che Dio ha avuto Quando nella creazione Cominciò a creare Ogni cosa Attorno a noi Poi creò Poi creò L'uomo Soffiò Un alito Di vita In quel corpo Per far sì Che quell'uomo Che l'uomo Potesse sperimentare L'amore di Dio Alleluia Il sentimento Quel giovane Ha avuto Il sentimento Del padre Lo stesso sentimento Che Dio Ha avuto Quando Si fece uomo Venne sulla terra Per passeggiare In mezzo ai popoli Per camminare In mezzo ai popoli Per andare A sanare A guarire Per dare un tocco Di guarigione Per offrire Il piano Di salvezza Amen Alleluia E pensando un po' A questo Ho detto Signore Quel giovane Ha avuto Lo stesso sentimento Che magari Qualcuno Ha avuto Verso di noi Quando un giorno Venne Per la prima volta A noi Cominciando a parlarci Di Gesù Amen Se non fosse stato Per il sentimento Che Dio Ha messo Nei cuori Di qualcuno Che magari Per la prima volta Ci hanno offerto Il biglietto Da visita Gesù Alleluia Se non fosse stato Per quel sentimento Magari oggi Non saremmo qui Magari oggi Non avremmo la possibilità Di sperimentare L'amore di Dio Magari oggi Non avremmo la possibilità Di sentire La presenza di Dio Nella nostra vita E se siamo qua Dobbiamo essere Grati a Dio Per chi Ci ha evangelizzati Dobbiamo essere Grati a Dio Perché ha fatto sì Che qualcuno Avesse il sentimento Del padre Nella propria vita Affinché noi Oggi potessimo essere Qui nella sua presenza Amen Alleluia 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 E magari qualcuno Ha dovuto insistere Per riuscire a parlare Con noi Magari qualcuno Ha dovuto pregare Di più Per avere l'opportunità Per riuscire a parlare Con noi Ma io sono grato a Dio Perché oggi abbiamo La possibilità Di poter sentire La presenza di Dio Nella nostra vita Io sono grato a Dio Perché ci ha dato Questo meraviglioso privilegio Di far parte Di far parte della famiglia Di Dio Io sono grato a Dio Perché abbiamo La possibilità Di sentire il suo amore Nelle nostre vite E di avere la sua presenza Nei nostri cuori Alleluia 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 E Questo è lo sentimento Che ebbero Pietro e Giovanni La parola di Dio Ci dice che Quell'uomo Ogni giorno Veniva Messo lì Davanti alla porta Del tempio Sperando che qualcuno Passasse da lì Per dargli Un'elemosina E ogni giorno Veniva portato lì E Pietro e Giovanni Un giorno Mentre si trovavano A passare da lì Lui vide Questi due uomini Cominciò a guardarli Negli occhi E si aspettava Di ricevere qualcosa Ma Pietro e Giovanni Non avevano Quello che lui Si aspettava di ricevere Pietro e Giovanni Non avevano Quello che lui Desiderava ricevere Da loro Ma in tutto ciò Nonostante non avessero Quello che lui Si aspettava di ricevere Non persero L'occasione Di presentargli Dio Amen Alleluia Nonostante Pietro e Giovanni Non avessero Quello che lui Desiderava Non persero L'opportunità Di presentargli Dio Non avevano oro Non avevano argento Ma avevano qualcosa Che vale di più Di tutto l'oro E di tutto l'argento Alleluia Non avevano Quello che lui Si aspettava di ricevere Ma avevano la presenza Di Dio Nella loro vita Sapevano cosa significava essere Avere la presenza di Dio Nella propria vita E non persero l'occasione Di presentargli Quello che loro avevano E spinti Dallo stesso sentimento Del padre Spinti Dallo stesso sentimento Del padre Dissero A quell'uomo Noi non abbiamo Quello che tu ci chiedi Ma quello che abbiamo Te lo vogliamo dare Nel nome di Gesù Cristo Alzati E cammina Questa è la potenza Che noi abbiamo Nella nostra vita Questo è quello Che noi abbiamo Che possiamo ricevere Nella nostra vita Ma se lo teniamo Per noi Se lo teniamo Per noi Quale grande tragedia Alleluia Molte volte Ci cugliamo Del fatto Che le persone Che ci circondano I nostri parenti I nostri vicini I nostri colleghi I nostri compagni Di scuola Magari Vorrebbero ricevere Solo qualcosa Di materiale Pensiamo Che ormai Siano troppo presi Dai problemi Della vita Pensiamo Che sono presi Dalla frenesia Della vita E magari Non sono interessati Ad ascoltarci Non sono interessati E quindi Diciamo Vabbè Non ha senso Parlare con lui Perché tanto Non mi ascolterà mai E a causa Di questo modo Di pensare Perdiamo L'opportunità Di presentare Gesù A causa Di questo modo Di pensare Perdiamo L'opportunità Di presentare L'amore di Dio Alleluia Ma sapete Forse è vero Forse noi Non abbiamo Quello che il mondo Si aspetta Di ricevere Forse è vero Noi non abbiamo Nulla Che può soddisfare Bisogni carnali Del mondo Noi non abbiamo I mezzi Per poter risolvere I problemi In cui si trovano I nostri amici O i nostri colleghi O i nostri compagni Di scuola Ma abbiamo qualcosa Che vale Molto di più Abbiamo qualcosa Che non solo Può cambiare la vita Ma può dare la vita Abbiamo qualcosa Che è in grado Di cambiare Il modo Di vedere le cose Abbiamo qualcosa Che vale Molto di più Di tutto l'oro E tutto l'argento Alleluia 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 Non ho oro e argento Ma quello che ho Io te lo do Ma quello che ho Io te lo do E se il sentimento Di Dio Il sentimento Del padre È lo stesso sentimento Che agisce Dentro di noi Se il sentimento Di Dio È costantemente Ravvivato Nella nostra vita Lui ci darà La forza Di superare Quell'ostacolo Che ci fa pensare Che magari Non abbiamo Nulla da offrire Amén E ci porta Ad un livello superiore Dove ci fa riconoscere Il fatto Che abbiamo Tanto da offrire Amén Alleluia Chiesa Noi abbiamo Tanto da offrire Noi abbiamo Tanto da dare Al mondo Abbiamo tanto Quello che mi Fa riflettere Tantissimo È che magari Quell'uomo Quando Pietro e Giovanni Dissero loro Ma quello Non abbiamo Né argento Né oro Magari quell'uomo Non si aspettava Di ricevere Una risposta Del genere Magari quell'uomo Pensava Che magari Lo stessero Prendendo in giro Magari quell'uomo Era una risposta Che non si aspettava Per lui Era un'elemosina Strana Quella Ma sapete Mentre tutti i giorni Lui veniva portato lì Per ricevere L'elemosina Materiale Che non faceva altro Che garantire Un giorno La stessa cosa Ogni giorno Faceva la stessa cosa A mio avviso Quel giorno Lui ricevette L'elemosina Più grande Che abbia mai Ricevuto Fino a quel momento Quell'elemosina Gli ha dato la vita Quell'elemosina Gli ha cambiato La vita Quell'elemosina Gli ha dato la forza Di potersi alzare E poterlo dare Dio Con le sue gambe Poter danzare Dio Con tutto il cuore Gioioso Ha ricevuto L'elemosina Più grande Che aveva mai Ricevuto Fino a quel momento Amen Alleluia Era un'elemosina Strana Ma era l'elemosina Che gli ha cambiato La vita Alleluia Questo è possibile Solo se Il sentimento Del padre È lo stesso sentimento Che agisce in noi Amen Se l'amore di Dio Per le anime Perdude È lo stesso amore Che agisce in noi Noi ci renderemo conto Che abbiamo così tanto Da fare Abbiamo così tanto Da offrire Abbiamo così tanto Da elargire A chi ci sta accanto È il sentimento Del padre Che fa la differenza Nella nostra vita Amen Alleluia Fratello Sons Quando è stato qui In occasione Dell'ultimo seminario Ha fatto scorrere Delle slide In una delle slide C'era scritto Noi non possiamo E non vinceremo Le anime Perché ci è stato comandato Ma possiamo farlo Solo a motivo Del suo amore Che agisce in noi E per mezzo di noi Amen Alleluia Non è questione Di comandamento È questione Di amore Di sentimento È questione Di sentimento Di Dio Che agisce nel nostro cuore Per mezzo di noi Ed è in noi Alleluia 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 E sapete Non è mai Stato facile Non è detto Che sia sempre facile Infatti Pietro e Giovanni A causa di questo Di questo episodio A causa di questo Meraviglioso miracolo La parola di Dio Ci dice che furono presi E buttati in prigione L'indomani Furono interrogati E i capi dissero Noi vi liberiamo Ma non dovete più Parlare del nome di Gesù Alla parola di Dio Ci dice qualche verso Più avanti Che Pietro e Giovanni Mentre erano in preghiera Continuavano a dire Signore Dacci la possibilità Di poter fare Quello che abbiamo fatto Fino adesso Amene Alleluia E mentre loro pregavano Mentre loro pregavano La parola di Dio Ci dice che Or molti segni E molti prodigi Venivano fatti Per mezzo di Pietro e Giovanni Al punto tale Che i malati Coloro che stavano male Venivano portati in piazza Sui letti E speravano Che almeno L'ombra Di Pietro e Giovanni Potesse coprire Uno di loro Per ricevere la guarigione E Dio si usò Così tanto Di Pietro e Giovanni E ancora una volta Pietro e Giovanni Vengono presi E sbattuti in prigione E un angelo del Signore Durante la notte Li liberò E disse Andate in piazza E continuate a fare Quello che state facendo Continuate a testimoniare Dio Continuate ad evangelizzare Continuate ad avere Lo stesso sentimento Del padre Alleluia E il comandante del tempio Le guardie I capi religiosi Erano così infuriati Che andarono in piazza Li andarono a pescare Nuovamente Per essere interrogati E qui entra in scena un uomo Il cui nome è Gamaliele E quest'uomo disse Ascoltate bene Voi potete fare Tutto quello che volete In passato ci sono stati uomini Che si sono proclamati Allo stesso modo Di come si stanno proclamando Pietro e Giovanni Voi potete fare Quello che volete Ma quello che voglio dirvi È questo Che Se è questione di uomo Se è un'opera fatta Da mani d'uomo Sarà distrutta Ma se è un'opera fatta Da Dio Voi non potete distruggerla Perché Vi ritroverete a combattere Contro Dio Amen Alleluia Quindi possiamo vedere Che Pietro e Giovanni Non ebbero la vita facile Amen Posso pensare Che magari Quello che poteva essere Per loro Un'opportunità Di evangelizzare Quella che poteva essere Un'opportunità Per testimoniare L'amore di Dio Si stava rivelando Una cosa pericolosa Per le loro vite E magari umanamente parlando Pensavo magari Pietro e Giovanni Che dopo Il primo rimprovero Il secondo rimprovero Magari Pietro dice a Giovanni Senti fratello mio È meglio che qui Non pronunciamo Il nome di Gesù Se no qui ci mettiamo La pelle Ma era possibile Un pensiero del genere A volte può costarci qualcosa A volte potremmo essere Non ascoltati Magari potremmo essere Minacciati Così come quel giovane Sull'autobus Ma sapete Ma c'è qualcuno di noi Che può testimoniare Delle grandi cose Che Dio ha fatto Nella propria vita Amen C'è qualcuno di noi Che è in grado Di dire Io devo ringraziare Dio Perché ha fatto Questo meraviglioso miracolo Nella mia vita C'è qualcuno di noi Che magari Può innalzare la voce A Dio E ringraziarlo Per quello che lui Ha fatto Amen Amen Alleluia C'è qualcuno di noi Che può ringraziare Dio Alleluia E allora Se noi siamo in grado Di ringraziare Dio La nostra testimonianza Deve essere come quella Di Pietro e Giovanni Che dissero Capi religiosi Voi potete fare Tutto quello che volete Potete buttarci in prigione Potete picchiarci Ma noi Non possiamo Non parlare Delle grandi cose Che Dio è in grado Di fare Non possiamo Non parlare Della meraviglioso Privileggio Che abbiamo Di avere la presenza Di Dio Nella nostra vita Non possiamo Non parlare Di quello che Dio Ha fatto Nella nostra vita Alleluia 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 Quale meraviglioso Privileggio Poter avere Il sentimento Del padre Nella nostra vita Alleluia Alleluia E in ogni caso A prescindere Di come vadano Le cose C'è sempre Una promessa Che Dio Sarà con noi E lui ci proteggerà Del resto Gamaliele L'aveva profetizzato Per Pietro e Giovanni E sono sicuro Che quel piccolino Che era su quelle braccia Di quel padre Disse la stessa cosa Ma ancora oggi Se noi facciamo sì Che il sentimento Di Dio Sia nel nostro cuore A prescindere Di come vadano Le cose Noi Avremo la protezione Di Dio In ogni aspetto Della nostra vita Alleluia Alleluia Gesù un giorno Mentre Entrò in Gerico Attraversava la città E c'era un uomo Il cui nome era Zaccheo E la parola di Dio Ci dice che Quest'uomo A causa della folla A causa del fatto Che era piccolo Di statura Magari era un mio sosia Era Per vederlo Cosa fece Salì su un albero Perché desiderava Vedere Gesù E la parola di Dio Ci dice che Gesù Mentre passò da lì Alzò gli occhi Guardò Zaccheo E disse Zaccheo Scendi Oggi andrò a casa tua E la parola di Dio Ci dice che Molti mormoravano Dicevano Come Gesù Sta andando a casa Di un peccatore Bene fratelli Gesù non è venuto Sulla terra Per i giusti Non è venuto Solo per quelli Che non hanno commesso niente Non è venuto Sulla terra Solo per quelli Che non hanno mai Commesso peccato Ma perché Il suo sentimento È un sentimento D'amore Verso tutti Amene Zaccheo Scendi E che oggi Entrerò a casa tua Alleluia Sentimento di Dio È quello che fa la differenza Zaccheo riconobbe la sua condizione Riconobbe che la sua ricchezza Confrontata al valore Che aveva essere un figlio di Dio La sua ricchezza era nulla Amene Zaccheo riconobbe che Desiderare la presenza di Dio Nella sua vita Era di gran lunga superiore Di tutte le ricchezze di questo mondo E se il sentimento di Gesù Se il sentimento di Dio Se il sentimento del Padre Nella creazione È lo stesso sentimento Che agisce in noi Noi ci renderemo conto Che abbiamo così tanto Da offrire Noi ci renderemo conto Che abbiamo Meraviglioso privilegio Di avere Dio Nella nostra vita Alleluia Ma nello stesso tempo Dobbiamo dare Quello che abbiamo Amene Non abbiamo Dell'oro Dell'argento Non avremo magari Ciò che serve Per aiutare I nostri Problemi Su questa terra Magari non abbiamo I mezzi Non abbiamo il denaro Non abbiamo Ciò che servirebbe Magari per Aiutare qualcuno A risolvere i problemi Ma come ho detto prima Abbiamo qualcosa Che è in grado Di cambiare la vita Abbiamo qualcosa Dentro di noi Che è in grado Di dare nuova vita Abbiamo qualcosa Dentro di noi Che è in grado Di renderci Delle persone Speciali Come ho detto prima Sarebbe una tragedia Pensare che Gesù è morto Solo per i presenti Sarebbe una tragedia Pensare Che Gesù È venuto sulla terra Per sacrificare La sua vita Solo per Cento Duecento Mille persone Ma lui ha dato La sua vita Per tutti Ha dato la sua vita Affinché tutti Potessero ricevere Il meraviglioso Privileggio Della salvezza E sapete Non c'è da Demoralizzarci Da questo punto di vista Perché Anche ai tempi di Gesù Quando Gesù Passeggiava Per le folle Invitando Arrabbedimento Offrendo il piano Di salvezza Alcuni lo ascoltavano E alcuni decisero Di non seguirlo E se è successo Ai tempi di Gesù Con Gesù Quando più succederà I nostri tempi Alleluia Ma sapete Noi Non dovremmo mai Perdere le opportunità Per poter dare al mondo Quello che abbiamo Alleluia Non dovremmo mai Perdere l'occasione Di offrire Quello che abbiamo Non sarà sempre facile Non sarà sempre Proficuo Ma se abbiamo Il sentimento di Dio Nella nostra vita Se abbiamo il sentimento Del Padre Nella nostra vita Noi avremo Tanto da offrire Amen Vogliamo alzarci in piedi Alleluia Alleluia E sapete Come ho detto prima Non sempre sarà facile Non sempre sarà proficuo Non sempre sarà Dalla nostra parte Alcune volte magari Saremmo trattati male Ma c'è un passo Nella Bibbia Subito dopo quello Che abbiamo letto E la parola di Dio Ci dice che Gli apostoli Andarono via Dal sinedrio Rallegrandosi Di essere stati Degni di essere Oltraggiati Per il nome di Gesù Alleluia Amen Non saremo Sempre accettati Non sarà sempre Gradito Il parlare di Gesù Ma noi dovremmo Ragligrarci Comunque nel Signore E dovremmo Ritenerci privilegiati Di avere La presenza di Dio E poter conoscere L'unico nome Che è il nome Che è in grado Di salvare Ogni essere umano Alleluia Uscirono dal sinedrio Ritenuti Privilegiati Di essere stati Oltraggiati A causa Del nome Alleluia Viviamo la nostra vita E chiedendo a Dio Di ravvivare Di continuo Il suo sentimento Nella nostra vita Alleluia Perché non facciamo Un applauso Di ringraziamento a Dio Grazie Grazie